amici di serie c tv buonasera il nuovo campionato di serie c comincerà tra pochissimi minuti come sempre dalla piattaforma 11 sports qui sui leve sports finale di ritorno atto secondo e ultimo la rovesciata incredibile di barconi finisce così l'alessandria vince la coppa italia di serie c e gioia e gioia immensa ci sono sfide nella vita che ti dicono se sei la normalità o se sei un'eccellenza se hai la forza di superare questi 90 minuti allora il sogno non è poi così lontano abbiamo percepito la gritta la tensione la concentrazione la voglia di non sbagliare il peso delle responsabilità insieme ai vostri tifosi avete conquistato grandi vittorie avete condiviso le emozioni e adesso desiderate solo scrivere la storia delle maglie che indossate oggi vale molto di più c'è un posto in palio in serie b contropiede perfetto della squadra di braglia alessandro marotta la palla è entrata insieme a il vantaggio trova il tiro e il gol di tuttino il raddoppio del cosenza finisce qui cosenza è in serie b di cosenza è la quarta squadra promossa costando dalla serie c alla serie b grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti